Non lo vedevano ormai da tempo nei luoghi da lui abitualmente frequentati, così lo hanno segnalato ai carabinieri di Valdagno che sono andati a casa del 73enne. Nessuna risposta al campanello. Gli uomini dell'arma hanno notato, guardando da una finestra laterale, che l'uomo era riverso sul letto in stato di sofferenza. Hanno così forzato l'ingresso e sono entrati per soccorrerlo, allertando il 118 e salvando l'anziano che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Valdagno per le cure del caso.